In questa lezione parleremo del Decameron, sicuramente l'opera più famosa di Giovanni Boccaccio. Prima di tutto, cerchiamo di capire cosa vuol dire il titolo. Decameron o Decamerone è una parola composta da Deca, che in greco vuol dire dieci, e Demera, che vuol dire giorno, quindi significa la lettera dieci giorni. Giovanni ha molta fantasia e immagina il suo libro come una specie di serie tv. Dura dieci puntate, cioè dieci giorni, e in ogni puntata i protagonisti principali, dieci giovani tra ragazze e ragazzi, raccontano una storia a testa. Arriviamo quindi ad un totale di cento storie. Queste storie sono conosciute con il nome di novelle. Ma cos'è esattamente una novella? Si tratta di una narrazione in prosa, può essere reale o inventata, ed è caratterizzata da brevità. Non si hanno notizie su quando o dove sia stata inventata, ma deriva forse dall'antica tradizione orale di raccontare storie. Boccaccio, però, non si accontenta di seguire la tradizione e aggiunge un ingrediente importante che da questo momento in poi diventa indispensabile nella letteratura. La storia deve essere divertente e piacevole per il lettore. E quando inizieremo a leggere il Decameron, vedrete voi stessi che è proprio così. C'è poi un altro aspetto davvero originale. Le storie raccontate sono tutte estremamente realistiche. Un'innovazione non da poco, visto che la letteratura del Medioevo è piena di storie fantastiche. Le cento novelle sono organizzate entro una cornice, la nostra serie tv. Vediamo quindi nei dettagli la sceneggiatura pensata da Boccaccio per la sua storia. Immagina che le novelle siano raccontate da dieci giovani che scappano da Firenze e si rifugiano in campagna in seguito alla devastante epidemia di peste del 1348. Nella villa lontana dalla città, sette ragazze e tre ragazzi raccontano a turno delle storie. Durante questi giorni, a turno, ognuno avrà il ruolo di re o regina, cioè potrà scegliere il tema delle storie della giornata. Una bella organizzazione, insomma, l'esatto opposto rispetto alla confusione disarmante che travolge Firenze. La letteratura per questi ragazzi è il modo per rilassarsi in una situazione di stress e di tensione, esattamente come accade oggi anche a noi. Ma quali sono i temi del Decameron? Ci sono novelle che raccontano di personaggi astuti e fortunati, altre di quelli goffi e divertenti. Ovviamente non può mancare l'amore. Si racconta di amori a lieto fine, ma anche di quelli senza finale felice. Proprio come accade nella realtà. E ci sono racconti che mettono in luce vizi e virtù dei personaggi. Alcuni critici hanno sostenuto che l'amore è il protagonista indiscusso del Decameron. Ma se ci soffermiamo bene a leggere il testo, ci accorgiamo che in realtà non è proprio così. Boccaccio, da buon osservatore delle vicende umane, sa che l'amore è uno dei motori della nostra vita, ed è proprio con questa funzione che l'amore è presente nel Decameron. Una volta che il meccanismo dell'amore ha innescato l'azione umana, è solo questa che interessa Boccaccio. A questo punto possiamo riflettere anche sul secondo tema di cui vi ho parlato. Boccaccio racconta vizi e virtù dei suoi personaggi, ma con quale scopo? Lo scrittore non indossa mai le vesti del moralista, e proprio per questo è un grande innovatore. Non indica la retta via, non giudica gli uomini e le donne, vuole semplicemente raccontare e divertire. Questo suo atteggiamento moderno e la creatività delle storie hanno reso possibile che grandi registi della nostra storia del cinema si ispirassero alle sue storie per realizzare bellissimi film. Sapete, a differenza di quanto è accaduto alle opere di Dante, per il Decameron abbiamo il manoscritto autografo di Boccaccio. Quindi sappiamo esattamente come l'autore immaginava il suo libro. Si tratta di un manoscritto conservato a Berlino l'Emilton 90. Nel proemio il Decameron viene chiamato cognominato principe Galeotto. Il nome Galeotto vi ricorda qualcosa? Galeotto, ricordiamolo, è uno dei cavalieri della tavola rotonda e aiuta l'Ancillotto a conquistare Ginevra. Ma perché proprio Galeotto? Forse Giovanni vuole riferirsi alle storie di re Artù e i cavalieri della tavola rotonda, ma noi, che ormai conosciamo molto bene Dante, non sfugge anche il riferimento al canto quinto dell'Inferno e alla famosa frase di Francesca, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Non dimentichiamo che Boccaccio era un vero e proprio fan di Dante. E quindi, così come Galeotto ha favorito l'amore tra l'Ancillotto e Ginevra, il suo Decameron favorirà il piacere della lettura. Leggiamo questa dichiarazione di intenti e fatta di subordinate e costruzioni latineggianti. Guardate infatti quante causali, limitative, finali, prima di arrivare alla principale. Del resto, nel Proemio è lo stesso autore a dichiarare di aver concepito l'opera per consolare e divertire soprattutto il pubblico femminile. Gli uomini, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge, hanno molti modi di alleggiare o da passare quello, uccellare, cacciare, pescare, cavalcare, giocare o mercantare. Alle donne, invece, non restano che il lago, il fuso e l'arcolaio. Ma state attenti, Boccaccio non si sta facendo promotore della questione di genere. Sin dal Proemio semplicemente sta dicendo che la sua letteratura non ha scopi alti e morali, ma solo quello di alleggerire le pene e quindi far divertire. E le donne che al tempo di Boccaccio non conoscevano il latino sono il pubblico perfetto per le cento novelle.